guardate guardate qua cari amici guardate che roba lo sapete lo sapete che siamo qua al bar dei cinesi lo sapete che qua c'è una bella donna tedesca guardate che occhi che c'ha guardate lo sapete che vi fulmina questi occhi allora lo conoscete questo signore lo conoscete questo signore massimiliano goi e siamo qua al bar dei cinesi già la terza la quarta volta che massimiliano viene qua e guardate che bella che è lei guarda che bella tedesca guardate guarda che due occhi che c'ha vero ciao a tutti lo vedete che rimpatriata che c'è stata eh sì a sorpresa Serafino stamattina guardate che roba guardate che spettacolo ci sono spostati da Varese pensate da Varese da Varese sono spostati guardate che spettacolo guardate che roba guardate da Varese perché la signora la signora la signora dove c'è l'antuber alles e a vive a vive a Varese invece massimiliano goi sta ai confini d'italia sta ad udine ad udine a belluno 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 quindi si sposta a massimiliano si fa fa la spola c'è una particolarità questa bella ha fatto una bella scelta però massimiliano e io gli faccio i complimenti perché questa Deutschland è magrolina 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 e voi sapete cosa vuol dire è vero lo potete immaginare da soli non lo dico non lo dico è magrolina perché è succede poi che ci sono quelle che sono delle false magre cioè è una lady che se si dovesse spogliare non fa mai brutte figure poi non credo che lei abbia problemi a farsi vedere alla luce del sole o alla luce delle lampadine è una cosa importante questa è una cosa importante cioè se si spoglia non è che vuole che ci sia la luce spenta o che ci sia il buio quindi massimiliano è stato bravo ci ha avuto un occhio clinico diciamo che c'è stato anche fortunato dai Serafino diciamola si diciamola tutto bravo 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 molto bene eccoci qua siamo tornati qua al bar dei cinesi a volta a Mantovana vedete cari amici cari amici vi ricordo venite a volte a Mantovana perché vale la pena è bellissimo questo posto non solo per il signore ma per il paesaggio che è bellissimo è la fine del mondo ecco qua cari ecco qua guardate che situazione guardate che occhi che ha questa doe io penso che verrà il giorno che dovremmo vederla in bichini va bene cari eccoci qua la c'è la regina adesso l'ho vista anch'io la regina chi mi conosce sa cosa vuol dire regina è una cinese è una cinese ok cari amici allora vi salutiamo tutti eh vi salutiamo tutti guardate un po' no 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 sforziamo ecco qua va bene vi saluto